I pastai sono stati convocati dal garante per la sorveglianza dei prezzi Roberto Sambuco per un confronto sulla formazione del prezzo al dettaglio della pasta rispetto a quelli all'ingrosso e della materia prima. Lo annuncia in un comunicato il Ministero dello Sviluppo. Il confronto si terrà il 19 gennaio al termine di un'osservazione al dettaglio e all'ingrosso che si è protratta per un anno. Ad essere convocati al tavolo i rappresentanti di tutta la filiera produttiva e commerciale.